Non può tralasciare i punti fondamentali che sono stati affrontati da tutti i circoli dell'area del Sud Pontino, scritti e simpatizzati dirigenti del Partito Democratico. Sicuramente il punto centrale che è emerso a tutte le discussioni è sicuramente il tema del lavoro, non è un caso che è stato quello già riproposto nei precedenti interventi, quello per la durezza della crisi occupazionale che coinvolge tutto il nostro territorio, penso alla Panabesca, alla Consigginovi, alla Clinica del Sorriso sul Mare, quindi ad esempio tra le proposte che hanno immaginato, dato che spesso sono le imprese che hanno vasti investimenti in ricerca e in sviluppo, quelle scassamente legate al territorio, quelle che più facilmente delocalizzano o entrano in crisi, sfruttando le competenze della regione in tema di formazione professionale e di governo del territorio, ad esempio hanno ipotizzato una conferenza regionale dell'occupazione e dello sviluppo, formata ad esempio dagli assessori competenti, dalle parti sociali, dai rappresentanti degli enti territori, affinché possano predisporre una programmazione economica e territoriale organica, così come hanno ipotizzato un fondo speciale per la qualità del lavoro, cioè la regione che con questo fondo speciale partecipa, aiuta, investe quelle imprese che sono virtuose, quindi quelle che investono nella ricerca, nella formazione dei prodotti piuttosto che nella formazione della manodopera o ancora nella conversione dei contratti di lavoro da tempo a tempo, o comunque determinato a tempo indeterminato. Sicuramente poi quest'area qui, che appunto si affaccia sul Golfo di Gaeta, trova un altro punto imprescindibile di convergenza e un cadde dello sviluppo nell'economia del mare, cioè questa è una zona che per gran parte si riesce a sviluppare soltanto qualora si riuscirà a rendere compatibile complessivamente la pesca, la bagnazione, il turismo, le attività produttive che si affacciano comunque sul Golfo, la portualità turistica e commerciale. Quindi innanzitutto immaginare la riqualificazione complessiva anche urbanistica della costa, investire sui due poli principali del Golfo, quindi ipotizzando ad esempio un porto commerciale su Gaeta e il turistico sul Fonio, ma soprattutto quello che chiediamo, e che è emerso dai compagni di Castelforti, se non sbaglio, è la presenza che finora non c'è messa nel tavolo tecnico del processo di commissioning, per quanto riguarda l'ex centrale nucleare del Galliano, perché il problema che loro hanno risposto è che fino ad ora su questo tavolo tecnico che ha il compito di occuparsi delle problematiche, delle conseguenze della presenza di una centrale nucleare, hanno particiato sempre e solo i comuni della scuola campana, così come quello di intervenire e di rendere effettivo il provvedimento di aree sensibili del Golfo. Per quanto riguarda un altro punto nodale, è emerso inerente alle infrastrutture, infatti questo è un territorio che spesso risente anche di mancati investimenti economici e produttivi per la scartità delle infrastrutture che costituiscono l'aereo e il presupposto per uno sviluppo economico. Quindi per quanto riguarda innanzitutto il discorso complessivo deve centrarsi su interventi credibili, mirati e soprattutto realizzabili, cioè non insiste sui progetti realizzabili perché fare onci incompatibili con i tempi di crisi della finanza pubblica, come ad esempio quello della Bede Montana, ma investire su soluzioni efficaci e concrete, soprattutto sulla mobilità longitudinale e trasversale tra l'interno, quindi Mitri, Spigno e così via, fino a Coreno, fino a Lausonia, fino a Coreno, a Castino, con la costa e soprattutto poi investire invece sulla linea ferroviaria che discende invece lungo il corpo, ad esempio sul progetto della linea ferroviaria tra Fornia e Gaeta, ma che ipotizzando, facciamo un prolungamento fino a 21 e soprattutto che colleghi tutti gli apparati produttivi di tutti gli ospedali che dovrebbero essere allenati, vi diremo dopo. E' un punto fondamentale quello superare la società Lazio, ma che finora praticamente Atomine si è rivelata che è un caro opzione clientelare, è buono magari per eragire qualche prebenda, qualche personaggio politico di scarsa fortuna elettorale. E quindi basta ricordare la vicenda di Cercala Lazio, ma che ha perduto praticamente dei 10 milioni complessivi di finanziamento che l'Unione Europea garantisce per l'erogazione di un servizio che altrimenti con i soli costi di mercato non si manterrebbe, questi 10 milioni sono stati deportati di 4 milioni dall'Unione Europea perché la Regione Lazio non è riuscita a emanare nei tempi previsti il bando per l'affidamento del servizio all'armatore che poi privato avrebbe dovuto garantire il servizio. Un tema che sta particolarmente a cuore, diciamo così, a noi giovani democratici, dato che tutti, tra quanto moltissimi studenti, ragazzi, studenti e lavoratori, parlo da studente ovviamente, del territorio che sono costretti a spostarsi per studiare all'ambito universitario o a Roma o a Napoli, per quanto riguarda il trasporto oltre alle infrastrutture c'è tutto il discorso sul sostegno economico che durante la giunta Marrazzo veniva stato erogato con un investimento di oltre 12 milioni di euro tra il triennio 2008-2011 che consentiva il trasporto gratuito di tutti i residenti nella Regione Lazio che avessero con un unico requisito un rendito di 6, inferiore ai 20 mila euro. Con l'avvento della Polverini queste agevolazioni sono state ridotte ai suoi studenti, quindi escludendo lavoratori disoccupati, inoccupati. Sono stati in serie ulteriori criteri che restringono l'accessibilità a questa forma di agevolazione inerente alla mobilità e di fatto ad oggi si prevedono soltanto degli sconti in base ai quali un ragazzo può arrivare a pagare come minimo c'è la machine sotto la sole dei 250 euro, che non sono i 250 euro in sé, ma sommati al costo dei libri, all'aumento delle tasse di iscrizione universitarie, tralasciando magari chi può anche permettersi magari un anno